La Virtus torna da Modena con un undicesimo posto che non può soddisfarla e che significa salutare la finale oro, nonostante che la squadra si sia battuta con ardore, in modo leonino. Troppo pesanti però le assenze e troppo grave il patrimonio di punti disperso che poteva essere e non è stato. I forfè annunciati di Marcel Jacobs e di Jan Luksha, oltre ad un Matteo Taviani stoico ma a metà servizio, sono stati d'azio troppo pesante da pagare che al confronto Trump pare un pivello in materia. Eppure alla fine della prima giornata quel nono posto parziale aveva fatto sperare e sognare, ma è stato il classico sogno di una notte d'inizio estate che le restanti nove gare della domenica mattina ha mandato in frantumi, sancendo l'amaro verdetto. La Virtus cassa di risparmio di Lucca che gareggiava col pettorale numero uno, chiude undicesima con 108 punti su 18 prove, alla media di 6 punti a gara, che però non è stato sufficiente. Nel 2019 sarà finale Argento. Scendono di categoria anche Cus Parma, Cus Palermo e Bruniera Friuli. Per la cronaca il titolo tricolore è andato alla studentesca Riesi di Andrew Au, doppio titolo maschile e femminile. Tornando alla Virtus tutti gli atleti schierati dal direttore tecnico Matteo Martinelli sono stati ammirevoli, denotando il solito grandissimo spirito di squadra. Ricordiamo anche i trepodi, la vittoria di Roberto Orlando nel giavellotto, ai secondi posti di Chisorio Chimeri sui 5.000 e di Vito Divari nella marcia. Ed infine, alla soglia dei 44 anni, il debutto, incredibile ma vero, del vice campione olimpico nel martello di Sidene 2000, Nicola Vizzoni, con la maglia della Virtus e in una finale oro. Per la serie non è mai troppo tardi.